Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'arrivo del freddo pone inevitabilmente un interrogativo. Come tutelare i più deboli, coloro che per una miriade di ragioni diverse vivono per strada. A Pescara, grazie a una convenzione del comune con una struttura alberghiera, oltre 35 persone senza fissa dimora hanno un posto al caldo dove poter riposare. In prima linea, l'associazione On The Road, che offre un sostegno psicologico a chi vive in condizioni difficili. Dal 22 dicembre abbiamo avuto la possibilità col comune di Pescara di attivare il piano freddo. Ormai è dal 2017 che nel tavolo col comune, il tavolo sulla povertà estrema, si decide di partire il prima possibile, insomma, ai primi geli. E quest'anno si ha la possibilità di arrivare a marzo inoltrato, dopo il 10 marzo sicuramente. Quindi un'ottima soluzione, perché le persone possono stare H24 all'interno di questa struttura. Gli anni passati il comune ci dava la possibilità di gestire dei luoghi e attrezzarli, quindi delle ex scuole. E lì però avevamo un H13, H14. Questa possibilità, 7 su 7, H24, dà veramente la possibilità di stare al caldo a queste persone, insomma. Quindi 35 posti in hotel quest'anno. 35 posti in hotel, poi il proprietario è stato piuttosto gentile nel concederci qualche posto di più. Siamo arrivati ad accogliere insieme 42 persone. A questi si aggiungono anche i posti del dormitorio della Caritas? Sì, sì, ci sono sempre i posti del dormitorio Caritas. C'è un partner, grandi amici ormai da tanti anni, la Papa Giovanni, che hanno un'altra accoglienza su Chieti e quindi hanno anche aperto dei posti a bassa soglia, vicino a una casa famiglia. Quindi c'è una bella rete tra di noi, c'è una bella rete di solidarietà. Insomma, cerchiamo e riusciamo ad accogliere quasi tutti, ecco, quasi tutti. Grazie a tutti.